buongiorno amici e ciao a tutti ragazzi e soprattutto benvenuto benvenuto a tutti i nuovi iscritti del gruppo allora oggi mi trovo nella splendida South Kensington che è la zona dove ha anche casa il famosissimo Richard Branson sarebbe il multimilionario della Virgin con tutte le sue aziende e sotto aziende pensate che qui in Gran Bretagna lui ha anche possiede anche un'isola tutta sua quindi se non lo conoscete insomma vi vi raccomando di fare una piccola ricerca e di capire di chi stiamo parlando questa è la sua zona dove c'è anche la sua casa tra tutti gli altri imprenditori e personaggi molto importanti e ricchi questa zona allora quello di cui voglio parlare in questo video è la come sempre la felicità del fatto che stiamo davvero crescendo tantissimo nel gruppo ma soprattutto vi volevo dare una notizia che qualcuno tra di voi già sa cioè quella che il praticamente il 16 dicembre quindi stiamo lì all'incirca tra 16 17 giorni è il mio compleanno quindi lo so che a qualcuno non ne può fregare di meno però non è tanto per il compleanno ma è tanto perché lancerò il mio primo libro dedicato a chi vuole partecipare alle aste giudiziarie e non sa da dove iniziare quindi non ha mai messo piede all'interno nemmeno mentalmente di questo settore o che comunque vuole capirne di più è anche adatto a quelle persone che già masticano e bazzicano il mondo delle aste non con tutti e due i piedi ma con un piede sì e un piede no come dico con i miei collaboratori quando voglio fare qualche esempio cioè di una persona che ha bisogno di una spinta in più questo libro che ho creato è davvero qualcosa di eccezionale perché non solo perché è il mio primo libro ma non è tanto questo perché potrebbe essere anche il mio primo libro però potrebbe essere una scrittura messa lì così giusto per invece no e a riprova di questo c'è il fatto che la prima persona che ovviamente ha letto il libro a parte me che l'ho scritto è esattamente la persona che si è occupato dell'editing quindi una professionista che non conosceva questo settore e quindi non sapeva assolutamente nulla ne aveva sentito parlare però non conosceva e sinceramente pensava tantissime cose che generalmente pensano le persone cioè quello che le aste possono essere pericolose però a parte questo tantissimi aneddoti e tantissimi pensieri correlati quello che voglio condividere con voi è questo intanto nei commenti sotto questo video vi inserisco un attimo quello che è il feedback che lei mi ha dato di sua spontanea volontà una volta che ha terminato l'editing ma a parte questo vi voglio già annunciare che il 16 dicembre che è il giorno del mio compleanno quindi farò io un regalo a voi che cosa succederà? succederà che per un'ora farò una live e in questa live vi darò in esclusiva il link di Amazon per poterlo scaricare gratuitamente solo per quest'ora perché poi successivamente il libro sarà a pagamento e quindi se lo volete poi comprare successivamente o lo volete avere successivamente lo dovete comprare e quindi poi non vi posso più dare la possibilità di avere in regalo il libro quindi ragazzi vi allego sotto il commento perché mi fa davvero piacere sono davvero molto entusiasta soprattutto per il fatto che il libro trasmetta veramente quello che poi era il mio intento per le persone che si approcciano a questo settore quindi non solo per la prima volta ma anche chi è già avuto a che fare con le aste almeno una volta è comunque un libro che secondo me è la base la base di tutto prima di diventare ulteriormente dei professionisti affermati in questo settore sia per livello personale come conoscenze che soprattutto per livello di business e di crescita quindi con questo da South Kensington zona meravigliosa direi ci vediamo ci vediamo ai prossimi video e mi raccomando per le live fate sempre come sempre le vostre domande grazie ciao